Benvenuti e bentornati all'ascolto dei miei podcast. Se è la prima volta che mi ascoltate, vi invito ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle ultime news e a rilasciare un like se trovate contenuti interessanti. Inizia bene oggi la nostra avventura col matrimonio a prima vista Italia 2021. Come al solito l'equip è formata da Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini. Sono loro gli esperti ai quali ragazzi e ragazze in cerca dell'anima gemella si rivolgono e sono disposte a sposarsi con perfetti sconosciuti. Le coppie di questo sesto episodio sono formate da Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, Francesca Muzzi e Martina Peddaletti, Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale. Veniamo alla descrizione della prima coppia. Fabio Peronespolo ha 32 anni e viene dal Legnano, vive da solo ed è disoccupato. La sua passione è legata allo sport, è una persona molto generosa e dice di essere infatti di cuore e anche molto gentile. Clara Campagnola invece ha 28 anni ed è di Brescia. È una persona solare molto molto estroversa, viene da una famiglia molto unita e ama gli animali. Fabio e Clara di matrimonio a prima vista Italia 2021 hanno avuto un'affinità dell'84%. Martina Peddaletti e Francesco Muzzi invece vengono l'uno. Francesco da Roma ha 37 anni, nella vita fa il tassista, gli piace tanto ascoltare le persone che accompagna perché dice che ognuno di loro gli lascia qualcosa. Ha molti tatuaggi e cerca una donna che possa essere una sua complice. Martina Peddaletti invece ha 34 anni, anche lei è di Roma. Ha raccontato di essere una persona energica che va sempre di fretta, fa mille cose al giorno ed è appassionata di viaggi. Ama anche lei è in cerca di un uomo tatuato. Speriamo quindi che Francesco sia quello giusto. L'ultima coppia invece è costituita da Santa e Salvatore. Santa ha 27 anni e siciliana, viene dalla provincia di Catania. È una persona molto affascinata dai viaggi che l'hanno portata ad allontanarsi dalla sua terra natale, la Sicilia. Ha vissuto all'estero diversi periodi della sua vita, in particolare ha avuto esperienze sia in Spagna che in Inghilterra e addirittura in Australia. Quello che spera è di trovare un fidanzato che come lei sia innamorato dei viaggi. Salvatore ha cinque anni più di lei, ne ha 32, anche se ne dimostra di meno, e arriva anche lui dalla Sicilia, esattamente dalla provincia di Messina. Lui è amante di ciclismo e per questo è consueto viaggiare in bicicletta. Non ha viaggiato però soltanto in Sicilia, anzi ha girato per mezzo Europa. Ha un carattere un po' complicato in quanto è una persona che tende sempre a riflettere e a prendersi del suo tempo prima di aprirsi con gli altri. Si definisce però pronto ad affrontare questa esperienza partendo causo, quindi con i piedi per terra, e da bravo ciclista disposto poi a mettere il massimo delle sue energie nella corsa finale. Dopo questa presentazione vi farò sapere come è andato il loro primo incontro. Per adesso è tutto, alla prossima!